ancora una volta ciao ragazzi e bentornati benvenuti non lo so ci ho fatto solo un video su unturned questa volta insieme a me c'è anna ciao anna ti sparo in testa no no non si fa e tra l'altro questo fucile se non ricordo male è tuo e oi che ah questo era molto insidioso come zombie allora io ho bisogno di mangiare subito proprio io forse ho del cibo non ne sono sicuro dicelo no 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 non mi mettere fine alle mie avventure grazie rompi i coglioni ok allora me lo mangio io ho preso o l'ho ammazzato da lontanissimo e sento sono io che mangio non ti vergogno fa un casino non ho trovato delle armi la volta scorsa questo fucile credo sia tuo originario no credo no anch'io voglio non era fai più più pure tu fai più più se mi spari non ti sparo lo vorrei anche sognare cioè mi piacerebbe che non succede un coltello qua del moldi corn da quanto ho capito le cose moldi non sono buone qua c'è del cibo ma io non ho spazio aspetta io 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 sì che ho mangiato ho mangiato ho sete anche io ho trovato dell'acqua lo zomboso dove sta questo gioco è carino in fin dei conti non è niente di speciale per carità alla fine il creatore ha copiato un pochino di qua un pochino di là e bene o male tutto attenta sta arrivando uno zombi è morta no ho trovato un seme e un fertilizzante se non mi ricordo male o altri semi tu sei ancora senza pantaloni ma sì siamo assaliti muori zombi di merda ci sono dei pantaloni qui al caffè ma chi ha bisogno di pantaloni ma i pantaloni sono per le checche ma tu poi prendi freddo al culetto anna ti sparo ok te la sei cercata no no oddio no 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 ti smotto sego a tu devi mettere la torcia perché io non vedo un cazzo vieni ok non ricordo aspetta dammi un secondo come si faceva così no così tra l'altro noi potremmo io ho due tanniche di benzina vieni vieni come però mi devi illuminare davanti se non ha senso tanto avevo visto un veicolo dove stava eccolo no no niente bau bau niente bau bau fai vedere ok è senza benzina però è buono allora adesso dammi un attimo che ma possiamo entrarci in due certo l'ho refuelata vai sali ok ora ma non ha le luci ma che macchina di merda è con che tasto scusa con che tasto accendi la luce tu non lo so io sto usando la torcia si lo so ma dico non c'è un tasto per no perché basta tenerla in mano oh hai visto c'erano le luci lo sapevo fermo ma che problemi hai ho sbagliato a premere pulsante sono scesa c'è anche uno zombie muoviti muoviti muori guarda là lo sapevo che c'erano le luci nella macchina non avrebbe avuto il minimo senso se non ci fossero state le luci nella macchina non ti salti in mente di sparare guardandomi perché mi itti io si può sparare in macchina non ti sparo io sono una brava persona lo so ma sei anche scema e potresti farlo per sbaglio dove staremo andando secondo te vedo qualcosa sulla strada la terra promessa una macchina un'altra macchina e vabbè ma noi ce l'abbiamo già è un furgoncino però era bello quello là noi abbiamo un pick up è ancora meglio vabbè perché questa scatola di scarpe giustamente sarebbe un pick up e ho trovato una roba qua cos'è una fattoria questo è bob è il fattore bob attenzione ci sono altri zombie bisogna scendere un pozzo scendere scendere attenzione anna anna no scappa scappa una bottiglia d'acqua aiuto ah ci ho pensato io ne ho ammazzato uno morite ti li illumino morite ah ok non fa un cazzo la motosega oh ok ce ne sono altri no non mi sembra sì che schifo un altro fattore george e lo era porca vacca la motosega è un po' una merda però eh non mi piace per niente zozzeria non vedo un cazzo anna arrivo subito non nemmeno la torcia io è illumina illumina vieni vieni uno shotgun questo potresti sì potrei lo prendo subito un secondo dobbiamo questa un altro shotgun è un cappello io ce l'ho il cappello lo vuoi tu quel il cappello no prendilo tu ma io ce l'ho già fantastico andiamo va idiota col cappello adesso te lo prendi e te lo metti forza prendere il cappello ti sparo ti sto tenendo d'occhio prendi il cappello e mettilo lo prendi e lo metti ok un secondo dunque io intanto cerco di piantare le patate vediamo un po' ah se non mi ricordo male bastava andare qua no prendere la patata acqua non si può dove la devo piantare qua e ho piantato la patata ora fertilizzo la patata allora è cresciuta guarda e ho harvestato la patata una patata fresca guarda wow una patata mmm una scatola ok e adesso come ne usciamo però e io ho iniziato avere sete qua non c'era niente andiamo dai andiamo a cercare sali non faccio ok è il 61 per cento di sete però è tra un po' io allora hai fatto bene di qua destra non siamo andati quindi andiamo di cuore tu è pieno di zombie tutti uguali questo gioco in multiplayer nei server credo sia praticamente ingiocabile anche perché la mappa è molto piccola quindi finché sia in due o in tre vabbè ok ci siamo anche in cinque forse ma più di così probabilmente diventa qualcosa di stupido anche perché poi ognuno può portarsi le armi dal proprio salvataggio stiamo finendo la benzina eh vedono zombie posso sparare guarda qua c'è oh mio di si può sparare ma che cos'è questa una zona che annascendia no no ho paura c'è pieno di zombie guarda qua c'è un ca- oh mio dio ci stanno assalendo eh Anna possiamo fermarci e scappare no ho un'idea ho un'idea ci mettiamo qua loro ci inseguono e gli spariamo sei pronta a scendere scendi ok arrivano ai tuoi piedi oh attenzione dietro Anna è pieno lì attenzione te ah Anna indietreggia e muori il pompiere oh oh devo ricaricare io devo ricaricare indietreggia madonna dietreggia via il pompiere eh finiti i proiettili eh io ti prendo ammazzate aiuto ah ho finito pure io i proiettili Anna sto picchiando col macete ok ti aiuto arrivo volete morire vi picchio tutti madonna ok finiti oh mio dio si che fatima ma io ho finito aspetta fammi guardare eh li ho finiti pure io li ho finiti uffa userò la pistola oh no aspetta military bullets dove ho buttato il mio oh no che è successo ah eccolo ok ehm e non posso come dai non ci posso credere ho finito le munizioni anch'io ho buttato la pistola e questo aggeggio non mi si ricarica più non ho capito perché vabbè vaffanculo andrò di motosega a sto punto troveremo delle altre munizioni in questa città la tua pistola è qua comunque perché lei l'ho droppata perché non trovo proiettili brutta pistola ah ok allora io sto al 71 per cento di sete quindi dobbiamo cercare da bere eh questa macchina ha finito la benzina andiamo avanti di là ne vedo un'altra cioè ne ho visto un'altra però era messa male da bere si trova nella città proietti le robe nel porto allora qua ci stanno una serie di case e cosa c'è mi hai fatto paura una benda tu sei ferita ehm ho il 64 per cento di vita quindi ancora sto in piedi ma ho delle medicine eh se vuoi io potrei condividere zombie muori muori Anna faccio luce qua c'è una farmacia magari o altre bende vedi questo no queste sono purification tablet a che cacchio come si fa ad entrare qui ah si lo so di qua io vado a vedere qua nel food o eh brutto dottor zombie vado a vedere qua oh potato chips energy drink oh sono salvo allora queste me le metto qua drink poi qua c'è moldy moldy non è buono candy bar granola bar e la peppa quanto cibo buono buono potato chips prendi pure tu però perché no a me non mi ci sta tranne le robe moldy potato chips moldy non devi prendere eh moldy fa schifo andiamo lì aspetta qua ci sta al aspetta un attimo ah 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 cappa scappa presto ehm scappa di più cosa ti aspettavi e ora ecco cosa ti aspettavi ecco e lo faccio anche qua 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 scappa presto oh c'è uno zombie l'ho sentito c'è uno zombie l'ho sentito purple chem light ah sei qua eh oh wow ho tirato la martellata e lo zombie esplode ehi Galia aria pure io stai attirando gli zoo NingYoo qua c'è un ascia da pompiere attenzione Tiro la chemlight Oh Hai vi Oh è tutto così rosa Mi scoccia però ho finito i proiettili Di qua È vero è tutto rosa Guarda che bello Ho un camion Lì c'è dinner Dinner Ma noi abbiamo da mangiare da bere ora Da bere magari non è mai abbastanza Non tanto in effetti Mol di corn Ehi Ho sentito zombare Candy bar Quello è da mangiare non è da bere Ehi C'era uno zombie mi sta strisciando i piedi Ammazzalo Brann cereal Vabbè io ho da mangiare non sto messo male però Purification tablet E' buono io però Io anche ce n'è un altro vieni Avevo Qui sul tavolo Oh Ok Oh c'è un coltello da macellare Bevonzia Ma le purification tablet Che cavolo servono Cosa dovremmo purificationare noi Forse cibo Granola bar Vabbè Hai lei vuoi da mangiare No ce l'ho ce l'ho Ok perfetto Allora di là ci stanno altri veicoli distrutti Il nostro veicolo Ah qua c'è un camion Qua c'è posto Illumina Anna Illumina E' buono C'è anche il 6% di benzina In più Dovremmo arrivare al molo Lì si trovano i proiettili Ah no questa è vuota Dovremmo arrivare allo